Nei giorni scorsi i carabinieri di Ponte Canavese hanno denunciato in stato di libertà dieci persone, un adulto e nove ragazzi, alcuni dei quali minori, che avevano causato disordine all'inizio di gennaio scorso a Rivarolo Canavese. I fatti risalgono la sera dell'Epifania, quando nove giovani della zona, sette maschi e due femmine, per lo più di origine nordafricana, residenti dei comuni di Castellamonte, Ponte Canavese, Quornieri, Rivarolo, erano salite a bordo di un pullman della GTT, alla stazione ferroviaria di Rivarolo diretta a Ponte Canavese, con la pretesa di viaggiare prima di biglietto arrivando quasi le mani con l'autista. Una passeggera ventunenne, residente a Ponte, aveva preso le difese dell'autista nel servizio pubblico. Per questo le due ragazze della banda avevano aggredito la coetanea, prima minacciandola e poi mettendole le mani addosso. La dite, che aveva determinato un ritardo di più di 40 minuti dalla partenza del mezzo, era stata sedata soltanto con l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Rivarolo. L'intervento dell'arma locale ha permesso di identificare i nove, ma la vicenda non si è conclusa nella serata in questione. Nei giorni successivi il padre della giovane aggredita, individuando gli autori del fattaccio all'interno della stazione di Rivarolo, nella sala d'aspetto, decise di regolare i conti assalendoli armato di una spranga di ferro. Lo sconto è proseguito fuori dalla stazione ferroviaria e mezzo alla strada, con lanci reciproci di sassi e bottiglie di vetro. Un ulteriore strascico della contesa è venuta la serata successiva. Questa volta la banda, che per vendicarsi dell'aggressione subita alla stazione del giorno precedente, si presentò sotto l'abitazione dell'uomo a Pont, bersagliandogli l'autovettura con pietre e bottiglie. L'uomo denuncia il fatto, omettendo però l'aggressione ai ragazzi fatta da lui. Per questo è stato denunciato insieme ai nove giovani. L'uomo denuncia il fatto, omettendo però l'aggressione ai ragazzi fatta da lui.